Ora lui con la pistola. La pistola! La pistola! James, la pistola! Ai ai ai. Bella merda di situazione. Bella tragedia. Ok. Esatto. Mi piace che do un cazzo di comando e lui fa completamente l'opposto rispetto a quello che ho dato. Completamente l'opposto. Porca puttana! Il tasto in basso è per il fucile a pompa. Il tasto... Il tasto... Il tasto... Il tasto a sinistra. Quindi, devi vedere.